Il campo del Farwell 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 nel confezionare tanti prodotti e tanti oggetti, portacchiavi, porselli, salvadenai, album fotografici, che rappresentano un alto livello artigianale o artistico e nello stesso tempo consentono, visto che ci rivolgiamo a tutti i settori della popolazione, potrebbero rappresentare, ripeto, un punto di vista abbastanza importante per le attività economiche. Per farvi capire che il mondo del West è un grosso iceberg di cui si vede soltanto una piccola cima, ma sotto il livello delle acque la massa è in mezza, noi ritroviamo cultori inimmaginabili, appassionati che vanno da Michael Schumacher a Michi Lauda, da Oliviero Toscani a grandi personaggi della cultura, dello sport e delle attività umane, delle varie attività umane, quindi il mondo del West non è che semplicemente lo possiamo indicare come andare a giocare agli sceristi. Il mondo del West di per sé, se guardato nelle sue, facendo una radiografia del mondo del West, ci accorgiamo che ha tante piccole sfaccettature da cui si riesce a comporre degli argomenti di alto livello. Perché a parte certe filosofie, a parte certi risvolti sociali, a parte i risvolti culturali e storici, perché in effetti il mondo del West non è altro che la base da cui si sono sviluppati gli Stati Uniti d'America, che possiamo dire sia una delle più alte civiltà esistenti al mondo, perché hanno espresso tanti e tali valori che sono stati alla base di questa crescita eccezionale, non trascurando di per sé anche quello che hanno trasmesso quelli che vengono considerati nativi, gli indiani, che per la verità fanno parte integrante di questa tradizione culturale. Comunque sarei disposto a scambiare le mie esperienze con chiunque abbia interesse. Ora potrete vedere, esporvo anche l'indirizzo del mio sito e alcuni recati dove potete compattarli. Possiamo parlare al di fuori di tutte le diverse attività commerciali, possiamo parlare di tutti questi settori a cui mi sono avvicinato e che avrei piacere di farvi conoscere nei dettagli. avrei anche piacere di scambiare una serie di opinioni anche con gente che è già all'interno del settore per poter portare avanti e avere maggiori dettagli e andare a fare un maggior approfondimento di un mondo che alla fine penso che abbia appassionato un altissima percentuale di italiani. Noi siamo a Padova, però attraverso il sito, attraverso il numero dei cellulari e le capiti che vi lascio in questo filmato voi potete contattarvi e speriamo di incontrarci e di scambiare le nostre sensazioni, le nostre esperienze in questo settore. A presto! Grazie a tutti!